In mille a Boiano per dire no alle centrali a biomasse nell'area del Matese. L'appello lanciato dall'associazione Matese Arcobaleno e dai 12 sindaci della zona è stato raccolto da cittadini, rappresentanti istituzionali e sindacali senza distrizione politica alcuna, almeno per una volta. In una piazza a Roma gremita, gente da ogni parte del Molise, striscioni, bandiere, una manifestazione assolutamente pacifica dalla quale è partito un segnale forte e chiaro l'indirizzo della regione e delle società che intendono realizzare due impianti, uno a Campochiaro, l'altro a San Polo-Matese. Il territorio non si tocca. Già all'inizio degli anni 90 ci fu il primo tentativo di impiantare nel territorio proprio di San Polo un digestore, tentativo bloccato dalla mobilitazione popolare. A distanza di pochi anni ci fu il secondo tentativo, quello di realizzare l'impianto della devizia e anche in quel caso il progetto fu bloccato. Ed ora i cittadini dell'area matesina sono di nuovo alle prese con lo stesso problema, con i due impianti a Biomasse di Campochiaro e San Polo-Matese. Ma ora la gente dice basta, basta ai tentativi di distruggere uno dei territori più belli del Molise, a forte vocazione turistica, basta con le decisioni imposte dall'alto. In piazza molti volti noti della politica molisana. Io e la provincia, la mia maggioranza, siamo stati sempre uniti insieme alle amministrazioni a condannare questa scelta infelice fatta di localizzare queste centrali a Biomasse in un'area che ha ben altra vocazione, una vocazione nell'agroalimentare, nell'ambiente, nella natura. Ci sono due oasi WWF. Senatore Di Giacomo, ma cosa si può fare a livello parlamentare per impedire la realizzazione di questi impianti? Sto preparando un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente per sapere anche cosa vogliono fare adesso che sono cambiati i criteri per l'installazione di questi impianti, mentre il benestare del Ministero dell'Ambiente c'è stato prima che entrassero in vigore. Ci sono tutte le condizioni per che il Ministero intervenga e io perseguirò tutte le strade affinché qualcuno si muova e prenda provvedimenti per evitare questo scempio ambientale e sociale. E poi ci sono i sindacati. In una realtà dove si parla di agroalimentare, casefici, la gamma è ferma, mi auguro che riparta, noi come sindacato siamo pronti a dare battaglia. Diciamo no a questa cosa, a questioni personali vanno rigettate, ci auguriamo che si blocchi tutto nell'interesse dei cittadini, del lavoro e dello sviluppo. Siamo qui a testimoniare per questa cosa, augurandoci che prima o poi la Regione decide di parlare di sviluppo, non di fare queste schifezze. Riteniamo che questa cosa sia di una gravità assoluta, dobbiamo vederci chiaro, siamo assolutamente contro quello che si sta facendo, lo scempio che si sta facendo. E c'è la gente, tanta gente comune che davvero non ne può più e che è pronta a dare battaglia per difendere il territorio nel quale vive. Signora vuole firmare? Sì assolutamente, ci mancherebbe, ci stanno seviziando, ci stanno violentando da anni, in vari modi, quindi credo che sia opportuno e assolutamente civile dare un contributo a queste associazioni che stanno sostenendo l'opposizione forte a questa violenza, quindi firmo immediatamente. Soprattutto ringraziando il nostro grande Presidente della Regione, signor Fratturi, suo padre era un signore quando era Presidente della Giunta di Campobasso, del Molise. Lui non è come il padre. Che cosa dovrebbe fare secondo lei? Ha distrutto il Molise, ha distrutto il Molise. Che cosa dovrebbe fare secondo lei? Dovrebbe rimboccarsi le maniche e pensare al popolo molisano, non ai propri interessi. I 12 sindaci dell'area del Mattese hanno dato mandato all'avvocato Pino Ruta di presentare ricorso al Tar per chiedere l'annullamento delle determine della Regione che di fatto autorizzano la realizzazione dei due impianti. Sì, devo riconoscere che questa volta anche le amministrazioni comunali si sono mosse per la difesa del territorio, il che è un segnale positivo perché significa che anche le istituzioni cominciano a non seguire più ciò che viene dall'alto. Il ricorso in realtà è stato già patrocinato in passato perché l'ho difeso per conto di alcune associazioni locali e alcuni esponenti di tessuti produttivi che ricavavano un pregiudizio da questa localizzazione abbastanza impropria, in quanto l'area è abbastanza sensibile sotto il profilo diciamo paesaggistico, produttivo e ambientale. Questa volta la procedura è stata reiterata, il provvedimento è stato rilasciato nuovamente e ci troviamo una seconda volta a doverci confrontare con un giudizio che in realtà è una gara ostacoli più o meno. Si segue sempre un percorso che quando si pensa che sia finita perché il Tar l'ha annullato poi ricomincia da capo perché le amministrazioni ripropongono lo stesso intervento. Sfilano i trattori, ci sono anche i buoi del Versacrum, simbolo di Boiano, della popolazione matesina che anche stavolta non si arrenderà, andrà avanti in difesa del bene più prezioso di cui dispone l'ambiente. Mille persone a cui si è aggiunto l'appello forte del vescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini hanno detto no alle biomasse. Il presidente della regione Frattura stavolta non potrà ignorarli, non potrà continuare a fare finta di nulla.